Ciao, sono Massimiliano del cantiere novale FB System di Viareggio. Oggi abbiamo organizzato un test drive e invitato alcuni clienti a provare il nuovo BISC 570. Sei pronto? Vieni a bordo con noi! Motorizzato Suzuki DF 115BG da 115 CV per la guida con manette elettroniche. Adesso ascolta l'esperienza dei nostri ospiti. Ciao, sono Stefano da Vicenza e anch'io ho partecipato al test drive organizzato dal cantiere navale FB System. Quello che vi posso dire è un gommone così, mi ha stupito, è veramente divertente. È stata una bella emozione provare il BISC 570. È una bella misura, fortunatamente abbiamo trovato un mare un po' mosso. Però a me è piaciuto molto trovare anche questo tempo perché così ho avuto la possibilità di provare il BISC 570. Che ha una bella guida, facile, divertente e in piena sicurezza. Per quanto riguarda il motore Suzuki, anche qua è stata una bella esperienza. Il Suzuki DF 115BG da 115 CV è un motore delle ottime prestazioni. Un foriboldo molto performante, è un'ottima scelta sostanzialmente. Il BISC 570 con 115 CV è stato azzeccato. Mi sono divertito molto anche con il nuovo sistema innovativo delle nuove manette elettroniche. In un'ottica di un nuovo acquisto, penso che il BISC 570 sia un acquisto che mi potrebbe far vivere, con i miei figli e con la mia famiglia, delle stupende vacanze. Grazie Stefano della tua recensione. Tutte le caratteristiche del Suzuki DF 115BG le puoi trovare in un video che ho pubblicato recentemente. E ti lascio il link in descrizione. La motorizzazione massima del BISC 570 indicato dal costruttore è di 140 CV. Ho pubblicato per te una recensione del Suzuki DF 140BG. Guarda il video e fammi sapere cosa ne pensi. Ti ricordo che per la guida senza patente puoi motorizzare il BISC 570 con il Suzuki DF 40A Ari da 40 CV. Un fuoribordo performante a quattro tempi a tre cilindri in linea di 943 di cilindrata che si avvale della tecnologia Hight Energy Rotation System. Un sistema che offre un controllo puntuale durante le manovre, una precisione di guida superiore alle basse velocità e una partenza fulminia per spingere imbarcazioni più pesanti o per navigare a pieno carico. Se non hai ancora visto il video recensione del Suzuki DF 40A Ari, ti lascio il link in descrizione. Per questo video è tutto. Come sempre ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube e se vuoi puoi seguirmi anche su Facebook, Instagram e LinkedIn. Mi aiuterai a divulgare i contenuti che pubblico settimanalmente. Ciao, al prossimo video! Ciao, al prossimo video!